Ho preso la maglietta di My name is Earl Se ho scritto e sai chi è My name is Earl? No! Allora cosa dici? Che vai via! Ri animazione di un film Che film è? Allora se avete in casa dei biglietti di soldi così 100 dollari Potete fare questo giochino Sette Di più Ci sono aperti tutti! Ciuschi! Ciuschi! Dov'è andato? E voleva realizzare qua ma gli ho detto ma forse? Ciuschi! Nei soldi! Posso passare? Ciuschi nei soldi! Allora sto fotografando i soldi, ho correnti un sacco di soldi E una macchina fotografica Ovviamente Ovviamente telecomando Il 1.4 è impraticabile Qua è tutto sfocato Almeno Vediamo 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 2.8 Vediamo 2.8 Vediamo 2.8 un po' meglio Niente Questo mi dovrei farlo nello studio Che palle! Guarda quanti ce ne sono! No no! Non si chiude più Sembra il film blu! Ah ok! Questo dove lo metto? Ciuschi! Vicino alle casse con le altre? Ok!